C'è una poesia di Bertolt Brecht che recita in uno dei versi finali così Noi che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, noi non si potè essere gentili È una poesia molto nota, si intitola A coloro che verranno Brecht la scrisse nel 1939, quando si addensavano in Europa le nubi più buie Era poco prima dello scoppio della guerra e sono le parole di un comunista alla vigilia della seconda guerra mondiale Ecco, Roberto è stato un uomo che non ha mai perso la gentilezza, il garbo Nel faticoso lavoro di amministratore pubblico che per sette anni ci ha visto insieme Governare il nostro municipio in un ambiente come quello della politica Fatto di divisioni, di screzi Roberto ha saputo essere un uomo di parte ma mai fazioso Mai ruvido, mai scorretto Ha saputo condurre la lotta politica sempre con fermezza e con grande dignità e rispetto Ed è questo un aspetto non solo caratteriale Per lui aveva un significato politico E questo è anche ciò che lo ha fatto tanto amare Da chi, come me, ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco Nei sette anni in cui è stato assessore al nostro municipio Roberto amava questo quartiere Amava il suo lavoro di assessore Ed è stato protagonista di tante battaglie Ed è stato promotore di iniziative importanti per la scuola Dalla 285, che è la legge per la promozione dell'infanzia e dell'adolescenza Al progetto Ponte, che è stato realizzato proprio qui a San Lorenzo Al parlamentino dei ragazzi Alle iniziative sul teatro Roberto è stato uno dei nostri migliori amministratori Qualcuno lo diceva nel ricordarlo Per lui la politica era bella Ed è stato bello fare politica con lui, è vero Ed è bello che oggi sia ricordato qui, nella sua San Lorenzo In questa scuola E noi I compagni e le compagne del Partito Democratico di San Lorenzo E tutti quelli che hanno con lui lavorato nel municipio Oggi noi ti omaggiamo, Roberto, con la nostra presenza E ti salutiamo con tutto il nostro amore Grazie Grazie Grazie